Ti è mai capitato di dover parlare in pubblico e di sentirti in difficoltà? Avere le mani sudate, il cuore che batte forte, la respirazione bloccata, di sentirti giudicato, guardato, di sentirti veramente davanti a una platea di persone che vorrebbero quasi mangiarti e di vivere questa sensazione come se fosse il peggiore incubo della tua vita? Normale. Per tutti è così. Ora chi è bravo a comunicare? Chi vedi e giudichi come straordinario? E' straordinario perché ha delle tecniche, perché ci ha lavorato, ha fatto un grande allenamento. Ecco si tratta di tecniche, di strumenti che ti permettono di gestire l'ansia, di gestire il respiro, di gestire la voce, di essere convincente e meno teso di il 99 per cento delle persone che parla in pubblico. E' questione di tecnica. Ora è una tua scelta imparare queste tecniche oppure continuare a vivere l'esperienza del public speaking, della comunicazione in pubblico davvero sempre come un incubo. Perché noi effettivamente parliamo sempre in pubblico e davvero non è una immensa platea in uno stadio a cui dobbiamo pensare. Pensare proprio alla comunicazione in una riunione. Pensare alla comunicazione con tuo figlio, con tua figlia, con il tuo compagno, la tua compagna. Il momento in cui devi parlare a un tuo cliente, proporre una tua idea, sostenere un esame. Io lavoro con gli studenti e quindi anche loro vivono l'esame della maturità, l'esame della tesi, con quest'ansia tremenda, anche se sono preparatissimi. Quindi non è una questione di essere preparatissimi, è una questione di essere in grado di gestire questa paura che ci prende lo stomaco, che prende la voce, che prende la gola e non ci fa capire più niente. Quindi c'è la possibilità di diventare un eccellente comunicatore. Con la mia esperienza di oltre 25 anni nel campo della comunicazione e il mio metodo diventerai anche tu un eccellente comunicatore. Grazie a tutti.